Fino a gennaio 2010, il San Giovanni Evangelista di Pietro Lorenzetti sarà assente dalle sale del Museo LIA, che l'ha concesso in prestito al Museo Civico Archeologico di Bologna. L'occasione è la prima mostra dedicata all'eccezionale avventura intellettuale di Federico Zeri. L'opera, infatti, fu magistralmente studiata da Federico Zeri nel 1968, dopo il suo ingresso nella collezione LIA, occasione nella quale ipotizzò la sua appartenenza ad un importante politico smembrato, di cui individuò altri elementi oggi conservati in diversi musei e collezioni. Secondo la ricognizione di Zeri, facevano parte dello stesso complesso la Santa Caterina d'Alessandria del Metropolitan Museum di New York, la Madonna con il Bambino oggi a Palazzo Vecchio a Firenze e ancora la Santa Margherita conservata da Sisi, alle quali si sono nel tempo aggiunte altre tavole. La datazione del complesso, e quindi anche della tavola in oggetto, deve collocarsi nell'ultimo periodo di attività di Pietro Lorenzetti, nato a Siena e documentato dal 1306 al 1345. La mostra di Bologna offre un approfondimento sulla metodologia di ricerca e di studio di Zeri e dal Museo LIA, in accordo con gli organizzatori e il comitato scientifico della mostra, è in programma una serie di appuntamenti legati alla figura del grande storico dell'arte. La mostra è stata promossa dalla Fondazione Federico Zeri dell'Università di Bologna, con la collaborazione della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etno-antropologici e il Museo Civico-Archeologico di Bologna. Per la prima volta è stata presentata al pubblico la straordinaria Fototeca Zeri, considerata il più grande archivio fotografico privato sulla pittura italiana, che per volontà dello studioso ora è patrimonio dell'Università di Bologna. Una selezione di dipinti e sculture, provenienti da musei e collezioni private, illustra alcuni casi esemplari indagati da Zeri.